La settima edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine da alcune settimane, ma dei Donnalisi ancora se ne continua a parlare. Edoardo e Antonella formano ad oggi una delle coppie più amate del momento. Tra i due ex G e Fini la favola d'amore procede a gonfie vele. Donna Maria e Fiordelisi attraverso foto e storie su Instagram tengono costantemente aggiornati i loro fan. Sai perché a settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi, ho sempre avuto paura dell'amore. Questa una delle dolci dediche che Antonella ha voluto fare al suo amato, che secondo il suo punto di vista l'ha migliorata molto. Per il momento è tutto gentili ascoltatori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sul mondo del gossip. Ciao ciao dalle news, al prossimo video!